Qui la protesta. La protesta. Secondo, perché mi piacerebbe abituare le persone a comprare le parole e le poesie. Terzo, faccio il trailer del mio spettacolo. Quindi protesta, pubblicità, il trailer del spettacolo e sensibilizzazione alla parola, al rapporto con la parola, a dare un senso, un significato alla parola. Fatto questo ho cominciato a viaggiare in tutta Italia. Prima dal Festival Castel dei Mondi nel secondo anno e poi ho fatto tutte le città. La notizia si è moltiplicata attraverso il web ma anche attraverso il passaparola. Quindi l'ho fatto in case private, in distributore di benzina, nei supermercati, ma anche a teatro. Il pomeriggio facevo la versione... Non aveva importanza la location, quando invece... Perché la gente è sempre quella, o meglio, la gente è ovunque. Ed è la gente che ti ha risposto. E mi ha risposto. Quindi ha avuto il favore del pubblico in tutti i sensi, anche in termini economici. Assolutamente, in termini economici ho guadagnato molto di più così che facendo il vecchio sistema, che non ho abbandonato. E per me questo è un modo per aiutare il sistema a rinnovarsi e a... A svecchiarsi proprio. A svecchiarsi e a far capire anche agli altri colleghi che è importante che si può lavorare. Bisogna trovare i modi. In economia, quando passano gli anni e quindi cambiano le condizioni, gli economisti studiano i nuovi modi per vedere come produrre questa fabbrica, andare avanti con il terziario e così via. Nella cultura o nel teatro è uguale. La gente cambia, i mezzi cambiano, c'è la televisione, adesso c'è il computer. Ancora di più adesso che ci sono tutte queste... Web, c'è Facebook che monopolizza le vite delle persone. Allora bisogna andare a intercettare e trovare un modo diverso. Questo poi mi ha portato ad andare in Europa, a fare il giro di tutte le capitali europee. Delle maggiori capitali europee. Girando un film di questa storia perché io volevo capire che cosa stava succedendo nelle altre nazioni rispetto al rapporto cultura, teatro, pubblico e istituzioni e anche per trovare una sintesi di questo percorso e dire al pubblico, per non essere autoreferenziale, Guardate, io ho fatto questo percorso di tre anni e ho capito questo e ve lo comunico, poi se lo volete prendere in considerazione va bene, per me sarà anche un libro, sarà un film che girerà tutti i teatri, di nuovo girerà l'Europa, di nuovo mi metterò su un camion per portare il film nelle piazze, perché questo è il nostro lavoro. E questa è la dimostrazione di come premi la capacità dell'artista di esprimersi, ma anche l'ostinazione, la tenacia per voler portare avanti un progetto. Guarda, le idee sono l'unico patrimonio che abbiamo. Che abbiamo. Se abbiamo delle idee, guarda, sono adesso due anni, io tocco adesso ferro, sono due anni di crisi, non tre anni. Io, man mano che la crisi aumentava, io aumentavo il mio lavoro, aumentavo il mio denaro, non sono diventato ricco. Ma hai sempre cercato una maniera. Lo voglio dire al fisco, non sono assolutamente ricco. E quindi denunciamoci. Anzi, pago le tasse fino all'ultimo, perché l'altro problema è quello che ci sono tante persone che fanno questo mestiere, anche perché non c'è qualcuno che dice tu sei attore e tu no, tu sei pittore e tu no. Tutti possono definirsi artisti e attori. Però forse l'unico modo per distinguersi è chi paga le tasse e chi no, forse. Perché uno ha deciso di farlo, lo fa come mestiere e investe e rischia, poi il pubblico decide se va bene, se non va bene. È sempre lui quello tiranno, quello che decide. Alla fine è quello lì. E quindi abbiamo finito, abbiamo finito, no, la tua strada è ancora molto lunga, ma a conclusione di questo percorso, di questo primo momento del tuo percorso, c'è il film e il libro, che incomincerà questo tour. Ma io voglio comunque avvisare a coloro che in giro per l'Italia, per il mondo, dovessero trovare un piccolo palchetto, un lume, una poltrona, un attore, un bravo attore. Li fermo a raccogliere l'attenzione dei passanti e molto probabilmente sarà Ippolito Chiarello con il suo... O qualcuno che sta imitando. O qualcuno che sta imitando questo target, come probabilmente accade, perché è normale che sia così, ma premia comunque la capacità d'espressione, la capacità di comunicare con il pubblico. Tempo finito, terminato. Vogliamo dire soltanto che Ippolito Chiarello non fa, non ha fatto solo, come prima hai accennato, barbonaggio teatrale, ma anche molto cinema, anche importante, ha lavorato con Teresa Tisio, con altri attori importanti, ha fatto molto teatro, continua a fare molto teatro, dal Petruzzelli alla stradina della più disparata località del mondo. Il peggior bar di Caracas. Assolutamente. E ha inventato, se vogliamo dire, comunque conduce questo circuito di palcoscenici low cost. Abbiamo ospitato Elena Cantarone, che ha fatto parte della tua rassegna teatrale, che sfrutta la possibilità di fare teatro in qualsiasi dignitosa situazione low cost. Grazie Ippolito. Grazie a voi. Buon lavoro e ci aspettiamo di incontrarti in giro per il mondo. Grazie. Maria deve riferire un piccolo appuntamento, un importante appuntamento, ma per il momento solo questo, di marzo, di Ippolito Chiarello. Grazie Mariella. E dunque, l'istriunismo e la bravura di Ippolito Chiarello la possiamo trovare il 4 marzo 2012, alle ore 22, nello storico locale Jazz Club cortomaltese di Lecce, nello spettacolo Quanto mi dai se ti uccido. Ora, a dispetto del titolo, Ippolito ci garantisce che non si tratta di un dramma, di una tragedia, ma di uno spettacolo brillante, della storia di un killer, ma insomma io suppongo che si rida, si scherzi e ci si diverta. Ringraziamo ancora una volta il nostro ospite e per noi qualche minuto di pubblicità. Grazie. Grazie. Grazie.